Lo scorso anno, qualche giorno prima di Natale, l'orchestra del liceo musicale Alfonso Gatto si è esibita al teatro comunale di Filippo di Agropoli. Una serata di grande emozione in cui la musica ha avvolto il pubblico in una dolce atmosfera natalizia. Sul palco, gli studenti con i loro strumenti, i cantanti, i maestri, ogni nota una gioia dentro il cuore, perché la musica è vita, emozione, voglia di stare insieme. E poi gli applausi scroscianti, la soddisfazione di aver svolto un ottimo lavoro, con l'impegno e la passione di sempre. Quest'anno, costretti alla solitudine nelle loro case, impegnati a trovare soluzioni efficaci di fronte a difficoltà così grandi, gli studenti e i docenti del liceo musicale Alfonso Gatto non si sono arresi perché la musica è vita e non se ne può fare a meno. Nessun palcoscenico, né luci, né riflettori, nessun pubblico pronta ad applaudire. Eppure loro ci sono, i meravigliosi studenti del liceo musicale Alfonso Gatto, guidati dai loro maestri, ognuno nella sua casa, distanti ma uniti in un'orchestra di eccezionale unicità, che ci trasporta in una dimensione altra, dove la vita non si ferma, sostenuta dalla passione, dalla speranza, dalla resilienza, dove il sogno continua ad esistere. La musica ci travolge, ci avvolge con dolcezza e generosità e ci stringe in quell'abbraccio che tanto ci manca. E non c'è modo più bello per augurarsi buon Natale, gli studenti del liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli. Gatto di Agropoli Gatto di Agropoli Gatto di Agropoli Gatto di Agropoli Gatto di Agro Gatto di Agro Gatto di Agropoli